ok blinking light di ok dove sei? eh io sono sopra, sono sopra, sono sopra sulla rampa c'è una già che è corso dentro all'ufficio sai qua? si, magari se non corri così tanto eccolo, uno è passato, c'è solo l'ascio c'è solo l'ascio andiamo giù nel solito posto apro questa? vai questo c'è anche full auto? no, c'è solo single andiamo giù a uno è scappato via con l'ascio però occhio che nel solito posto c'è qualcuno dici? adesso ci siamo sporati qui qua eh, secondo me è quello che è scappato via con l'ascio chiudi la porta, chiudi la porta e secondo me ha fatto anche la finaccia e secondo me ha fatto anche la finaccia cominciamo a fare il nostro giretto andiamo dal morto, scendiamo sotto giro da dietro vuoi aspettare un attimo? per capire che cazzo sta succedendo io non sento a sparare eh già ma quello con l'ascio è andato tanto sicuro al 100% uno sarà sopra sugli uffici sicuro tanto più che altro vado a vedere se vedo il camperone bastardo solito c'è la lampadina questa mi dà la granata ok allora i buchi non ce ne sono solo le rotaie sti camperoni di merda io non vedo nessuno scendiamoci dall'altro lato c'è nessuno qua che super eh ci sta guardando andiamo dal cadavere lasciamo i medici se ce l'ho eh se ce l'ho vediamo che c'è sta da lanciare, da bere, è un dvd 8 colpi per il fucile a pompa ti frego solo il gmk guarda qua qua fuori c'è uno uno stanag se vuoi no ci faccio uno il m4 manco ce l'ho ah in realtà uno ce l'ha no lo zaino dovrebbe ritornare il coso c'è un bel po' da rompire eh ma dovrebbe la mettono qualcuno intanto prendete gli 8 colpi per il fucile a pompa arrivano 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 a scavlo uno preso mi serve la borsetta sua ce la fai qua? nel volo? ah uno è laggiù ho preso la borsetta ok ah uno è di là in fondo tutto a destra ma è ah aspetta faccio saperci sulla cosa sulla borsetta perchè eh che culo e che armo aveva lo strozzo? ah il fucile quello di merda con due colpi del cazzo aspetta che prima lo stai occhio 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 ecco qui ok down ok madonna pensavo in player no uno scazzo di scav c'è un altro dov'è? hai ricaricato? lo sento ecco lui vediamo se scelta di qua vediamo se scelta di qua lo piglio io no sta facendo il giro da sinistra questo c'ha il toz da sinistra da sinistra si ah finalmente c'ho un po' di capacità di carico headshot con più quattro sarò a casa di ricaricato c'è un altro giù in fondo sicuro eccolo arca miseria sarà affacciato a sinistra a sinistra occhio a sinistra preso questo c'è lo zaino a sinistra a sinistra anche occhio vai 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 dai vai 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 eccolo che torna vai lo quien parte va e i tu a luttare quello sopra? o non ho da niente secondo te? dai, prova andarla dai, questa c'è la mitraglietta aspetta che prendo la mitraglietta che si finisca i colpi eh, il caricatore da 10, capirai vai, vediamo veloci, vai da veloci da quello sopra che io tengo il rig quello... figo dai, io copro qua 5 colpi, andai a ricaricare ok, ready, ready, ready occhio che non copro da dietro, eh se mi arrivano da dietro mi fanno subito che c'ho la schiena attraverso ok ci sono allora secondo me feriti 2 ecco, c'è un numero qua occhio occhio lo zaino ma cazzo c'è cosa c'è questa roba questo lo posso mettere? no, non c'ho ah no, sei tu che infarto pensavo dove uno scambio davanti dietro non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è preso occhio eh vado a premermi la rig di questa eh, questa c'è la rig con la serie cosa c'è ne arrivano altri mi mereka letta date solo cosa merda e finì i colpi occhio là di là eh io tengo di fuoco cocchia uno sopra mazzami io provo a farmi questo qua dietro è morto giù qua preso quello dietro anche sulle scale super non lo vedo è sceso allora è sceso d'altanta lì da te porca bestia dove è sceso d'altro è sceso d'altro l'ho ferito non è morto no ho finito i colpi cazzo è feritissimo alle gambe è sceso è feritissimo di qua si ma guardate finiti i colpi dice ci sono rimasto 30 colpi poi è finita oddio da dietro un'altra volta preso headshot mamma mia che culo che combazzo dobbiamo consegnare un cazzo di pacchetto stiamo facendo una sparatoria che ne ha più fine questi qua c'hanno bella roba devo entrare occhio al player a destra non facciamo cazzate non ci facciamo uccidere da un player di merda che sta tutto il tempo a camperare non hai un mitra cazzo no no niente ho solo sto fucile del cazzo per quello che voglio luttare eh ma dentro ce ne sono vivi ancora uno l'ho ferito e va vieni dietro che hanno ammazzato i 3 e 4 da dietro da dietro dai vieni dietro vieni dietro ho fatto la cazzata fortuna non mi ha fatto niente oddio c'è lo zeno quelle enorme c'è lo zeno quelle enorme di dietro andiamo a prendercelo guarda che strozza eh è scappato di sotto fin da una mignota è scappato sotto nei tunnel c'è lo zeno quelle enorme sei là tu sei tu si si sono giù in fondo ascolta dai beh 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 che è uscito sotto mi sa vieni è una fa il giro del globo fa questo no no è qua no sono spawnati altri eh allora tocca muoversi dai tocca salirti sopra occhio al solito occhio al solito ci conviene andare aia da dietro madonna zing fatto ma guarda quello è pieno di copa è quello che stavo cercando io ma guarda questo spietro di merda occhio che c'è l'ho nato eh di qua di qua copro io copro io occhio dietro preso preso ok madonna zing hai preso quello con il mega coso si preso lo zaino volevo vedere se aveva l'armo se l'ha ok via via poi c'è il saiga arriva ancora gente non ho sentito scendere le scale andiamo via andiamo via andiamo via ah ok down la ricarico vai vai ah c'è un altro destro aspetta aspetta facciamo girati qua ok tieni lì vediamo se riusciamo a prenderla da qui non lo vedo preso giù 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 ma l'armor non ce l'ha nessuno porco dio ho trovato il cavallermet però io eh quello già ce l'aveva allora passiamo per di qua tutti con saiga di merda però visto che ora stanno spawnando con i lastronze i piedi si si ma a me serve vabbè andiamo a consegnare sta cosa e usciamo poi magari ce la rifacciamo che cosa spada lì la SKS occhio 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 vieni qua vieni qua andiamo finita quest dove sei sopra? vai verso l'uscita vai verso l'uscita ah sotto sei andato? si 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 verso l'uscita sotto place heading objective 26 secondi mi devi coprire 25 secondi sono sopra le scalette le scalette vicino all'uscita c'è una cabinetta con la cassa fuori ah ok sono lì dentro 15 secondi ancora mi devi coprire mettiamo lì lontani apri intanto magari la porta che scappiamo 5 4 3 2 1 ok nascosta va che missione di merda scappo via eh hai aperto la porta sei tu che si 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 apri la porta l'ho aperta AKM dai cazzo dai cazzo non ci facciamo fregare qua Ubi muoviti perchè ti lascio qui siamo piedissimi dai fuori dai coglioni ok il camperone di merda via mamma mia che gira voglio vedere quanti punti facciamo abbiamo fatto un bel po' di kill cazzo 7000 punti ehm 9 kill 9 kill buono 5